La tartuficoltura è un'attività commerciale e anche ludica che è strettamente appunto legata al tipo di terreno. In questo luogo qua, nei dintorni di Siena, possiamo trovare delle sabbie, un terreno tutto sommato sciolto e molto drenante, che consente la nascita e la crescita di alcune varietà di tartufi, anche pregiati. Dobbiamo sapere che il suolo si divide in orizzonti, sono degli strati che si propagano in profondità, l'orizzonte o è quello più superficiale, quello proprio a contatto con le radici delle piante, su cui nascono queste prelibatezze culinarie. Ovviamente abbiamo bisogno di un amico che poi ci aiuta, ovviamente il cane. Siamo fortunati nella zona di Siena perché abbiamo più o meno tutti i tartufi, quindi a partire dal più importante tartufo bianco, conosciuto come bianco delle crete senesi o bianco di alba o di acqualagna, anche a Siena abbiamo il tuber magnato un pico, che è appunto quello più importante al mondo. Poi abbiamo anche una piccola presenza di tartufo nero pregiato, che se siamo fortunati potremo trovare anche nella giornata di oggi. È un tartufo che fruttifica da novembre a marzo, che vuole terreni molto calcare. Il tartufo marzuolo vuole acqua, sì, ma poi vuole un terreno molto drenante per permettere al tartufo di formarsi in maniera corretta e non deperire troppo velocemente. Alessandro ha preso moca in collo, ha preso in braccio, perché ci spostiamo di qua, andiamo in un altro luogo nella periferia di Siena. È stata bravissima, eh? Sì, sì. Ma spettacolare. Siamo stati divertiti abbastanza. Una ricerca del tartufo fantastica, quindi andiamo a scoprire se ne troviamo degli altri. Siamo sempre nei dintorni di Siena, ma come dicevo ci siamo spostati nei pressi della Montagnola Senese, questo luogo con dei rilievi in realtà collinari, montuosi. Ecco, spicca proprio qua nella periferia, nella provincia di Siena. Anche la geologia, la geopedologia cambia rispetto a dove eravamo prima. Ricordo che il primo luogo che abbiamo visitato era contraddistinto da sabbie o comunque da un substrato roccioso e terroso differente. Anche lì il tartufo cresceva in un suolo, in un orizzonte tutto sommato drenante. Qua invece siamo appunto nella Montagnola Senese dove esistono anche i marmi. Pensate un po', non proprio in questo luogo, ma si vedono tantissimi calcari. E quindi qui abbiamo anche il calcare cavernoso, questa roccia di origine sedimentare, ovviamente che poi lascia i suoi resti alterati un po' in giro. Qua ci sono queste cosiddette terre rosse, un po' di argilla e quindi un contesto molto molto particolare su cui poi si ritrovano ovviamente anche questi funghi pogei. Dov'è lì? Guardaci un po'. Brava, brava, guarda, un nero pregiato, brava, un nero pregiato. Ora siamo stati fortunati, bravo, brava Moka. Questo è un tartufo che mediamente costa anche tre volte più del tartufo bianchetto. Un tartufo che si presta molto a essere cucinato anche per qualche minuto sull'olio, o sul burro, sul fuoco. Si fa una pasta fantastica, gnocchi, ravioli, tagliatelle. È molto raro questo tartufo in natura e viene spesso coltivato nelle tartufaie in provincia di Arezzo e Siena. Però in natura è molto più difficile trovarlo. Siamo arrivati qui nel mio negozio, siamo nel vicolo dei Pollaioli, affacciati proprio in piazza del campo. Qui ho il mio punto vendita dove vendiamo, oltre al tartufo fresco, anche dei prodotti tipici senesi che vanno dai salumi, formaggi, classici dolci senesi, quindi ricciarelli, panforte, pan pepato. Abbiamo anche l'attrezzatura per i tartufai, i famosi vanghetti per la ricerca del tartufo. E abbiamo ovviamente dei prodotti al tartufo che vanno dalle creme alle salse, l'olio al tartufo, salame al tartufato, ma anche cinta senese, finocchiona e così dicendo. Dopo questa bellissima mattinata passata insieme, dunque vi invito a venirci a trovare qui in piazza del campo per comprare magari un bel tartufo fresco o qualche prodotto tipico senese. Vi aspetto. Grazie. 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 Grazie.